Porca pupazza, questa immagine me la devo stampare di più in testa, è il concetto della opportunità basata sulla scommessa simmetrica, perché si dice sempre ecco bisogna accogliere l'opportunità, Monti hai preso l'opportunità, non l'ho preso, smetti dei darmi, quali opportunità? E questa immaginetta ha un concetto molto semplice che è quello del rischio asimmetrico, a volte prendiamo un rischio enorme per avere un piccolo vantaggio così, esempio in macchina e vai lì e sfrecci, quindi un rischio pazzesco di fare dei danni enormi a te e agli altri per avere un 3 secondi in più di anticipo rispetto a dove dobbiamo andare, altre volte invece in modo più intelligente prendiamo un rischio piccolo così ma se funziona abbiamo un ritorno enorme, è il caso di Bitcoin ad esempio, non è un consiglio per gli investimenti ble 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 legalese, ma il concetto è che chi l'ha comprato all'inizio se Bitcoin andrà a 100 milioni, 10 milioni e 30 triliardi ha rischiato pochissimo all'inizio e ha avuto un ritorno enorme, dobbiamo sforzarci di essere un po' più asimmetrici